Fattata a Corato invece per due giorni la carovana della prevenzione contro i tumori femminili. Il parcheggio esterno dell'interspar di Corato trasformato in un centro dotato di strumentazioni ad alta tecnologia per eseguire visite ginecologiche e mammografie. La carovana della prevenzione si chiama, iniziativa organizzata da Despar Centro Sud in collaborazione con Come in Italia per promuovere la cultura della prevenzione tra le donne, sempre più in giovanissima età affette da patologie oncologiche. Noi attraverso i nostri progetti, prima fra tutti quello della carovana ma poi anche altri dedicati al mondo della scuola come il nostro progetto che interviene nel piano strategico della promozione della salute della regione Puglia che portiamo avanti da 4 anni nelle scuole, ci dedichiamo all'informazione delle fasce giovanili perché bisogna educare anche i giovani a prevenire e quindi ad adottare gli stili di vita sani e tutto ciò che concerne la prevenzione attraverso gli esami strumentali. Gli esami sono gratuiti, tutelare la salute della donna, dicono Accorato, ha importanti ricadute sul benessere della famiglia e della collettività. Ci sono studi scientifici che dimostrano quanto sia importante prevenire e quindi se una malattia di tipo oncologico viene chiaramente diagnosticata con il giusto tempo abbiamo più possibilità di poter intervenire tempestivamente e quindi ridurre quelli che sono i danni che molto spesso portano anche alla morte.